Ciao, sono Massimiliano Varrese, un attore, performer, artista marziale, insomma, un po' di cose, ma questo non è importante in questo momento. Che posso dire? In questa giornata quello che mi viene in mente da quello che sono io è che ho cercato qualcosa di specifico da poter dire, ma mi è venuto in mente la prima volta che sono salito su un tatami sulla materassina a fare judo, avevo 5 anni, e mi ricordo tutte queste persone su questo tatami rettangolare in fila, uomini e donne, e tutti avevamo la stessa importanza, dalla cintura nera alla cintura bianca, e a chi come me il primo giorno non aveva neanche la cintura perché non aveva neanche il kimono, come si usa dire in gergo comune, il judo. E la prima cosa che ho imparato da 5 anni è appunto il rispetto, l'empatia man mano che crescevo, l'importanza dell'altro, l'ascolto dell'altro, l'importanza dell'altro, dell'altra ovviamente, nel cammino comune, nella condivisione, nel rispetto, nel valore, nell'empatia, nell'amore. Adesso sono papà di una bambina, e spesso rifletto su quello che accade nel mondo oggi, no? Ho tutte le paure che possa avere un papà, ma so anche che se noi iniziamo da noi stessi, iniziamo già, in tenera età, a insegnare il rispetto, l'empatia, l'ascolto, la condivisione, la generosità. Sono fermamente convinto che si possa fare qualcosa di bello per il nostro futuro, per quello dei nostri figli, delle nostre figlie, ma deve partire da noi, da noi, adesso, da noi come genitori, abbiamo un compito importante, è questo.